Grazie a tutti i televidenti di Noce V, buona notte. Ora abbiamo fatto un programma di Noce V, nel 1 di Dizembre del 2010, e siamo fuori di casa di Corso. Abbiamo la speranza, la chiamata, che cosa cambia. La scuola tra Noce V, la speranza che ora è un cambio, di change of guarda, che cosa cambia. Per non calcolare il processo che lo tommo abbastanza tempo, lo che si no, non tolera con nessuna gente, né in area di relazione pubblica, né tampoco, né un ministro, né un ministro pleno potenziale, né un consegher, né un gente, che non si vede a forma, non si vede molto, di malmuccia. E il sistema di manda cose, fuori dal punto di vista solamente del gobierno, senza permettere di prendere, in forma responsabile, tra i programmi, che viviamo, il risultato di questa quadra, che visione, che gobierna, che non ti programma, non si obiettivo. Anche ora, non è ora, per noi, di nostri vedi, se città basta, se città ora, per noi, di nostri vedi, se città basta. Non si non si vede a nessuna gente, determina per noi, da che ora, noi lo porgiamo, se città o no, come ministro. Naturalmente, da quede prerogativo, di cada ministro, di ningu, non solo entrevista, per la libertà, per la buscata, e comunicazione, in forma trasparente, brindere, e opportunità, per tutti i ministri, di Biscita, anche in Olanda, con il hobby, di Biden, per la buonancia, ci sono diversi, però, come ministro, e, ci sono un obiettivo di amalgamare, che ci sono un problema per noi, ma in quanto si è possibile, non si vede a nessuna gente, Di oggi, non mi sono piuttante, se non si vede a tutti i ministri, se non si città o no. E, se non si è molto riferita, ci sono riassati, ci sono quello che mi sono di un bel v�ia, e, ci sono un teneio di un poicot, come non sono molto mandato di nulla gente, noi opto ora che come non si vede di halaleu, noi siamo quasi con il caso di Pueblo, cammino noi e anche noi di prensa e non lo vediamo, noi di noi si vede, abbiamo diversi pezzi, altri, rappresentando differenti organizzazioni, mi messa, il consegno dell'area di comunicazione di EJAT, abbiamo un ruolo di comunicazione dell'area di MAP, abbiamo un'organizzazione che mi ha aiuto con una di terra per promuovere un costo concreto qui nella Olanda, quindi noi ci siamo cansati e siamo arrivati a questa parte che si vede di un luogo negativo, noi siamo arrivati a fare un'area di spazio e il cambio di come si vede a casa di Corsau, noi siamo in grado di un'area di teoria, noi siamo in grado di un'area di un'area di un'area di un'area di un'area di un'area, di un'area di un'area di un'area Noi potuti non, se di verità non si non. E se è loro non ti guardo così, non so encomendare loro non. Però se è loro non ti guardo lograre, non so critichele. Non passo a nostra criatura di cose, sino passo a di una forma obiettiva. Non so duno resistenza, non è un problema, se non è un problema, e se non è un problema, non è un problema, non è una critica necessaria, basta di una quantità di renda, di questa roba e cose, se non logramo nada concreto. Non si non si fai così, non si logramo, è differente. Obiettivo non conosci, non sa logatura, obiettivo non conosci, in 2010, non c'è un'quantità di premio e selecciò di gente, non conosci, osserva, come un'unità di terra, fuori di Aruba, Moneiro, Sava, St. Marta, St. Stasches e Corso, che non so vai entrare a un premio. Non c'erano anche a tutti i nostri collaboratori, Giovanni Iones, trazie a camera Awe, però normalmente tambe reglando tutti i nostri website, Gianni Olbina, che per cura, a tutti i persibreghi, che drenza, vado a attender rapidamente, e anche a Nigelito Reilly, e a tutti i nostri collaboratori, a maniera, Raymond Labatt, tambe, Viernes Picœur, e a nostri amici, anche a chi non ha detto di Radio Frusco, tra sempre con noi. C'è dire, che è dependente, non ci sono interessanti, però non ci sono gratia per la informazione, non ci sono attraverso il nostro lavoro, con dignità, e volopare il cammino con noi, che non ci sentiamo in casa, in casa di Aruba, lamentablemente. Dice che rato, mi ha detto un cita, con il ministro di Justicia, il signor Gadet, per la mia visione, che non ci sentiamo in casa, 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 con la patata caliente, con il candidato per la polizia, con il che si sentiamo in casa, per la mia visione, che non ci sentiamo in casa, che non ci sentiamo in casa, Nogo è arrivato Sicherheit, di oggi si sentiamo in casa, mi ha detto un cita, che non ci sentiamo in casa, e allora ci sentiamo in persona, c'è una impressione, non ci sentiamo in casa, che grand 당amino inals basicamente, Ora, un lavoro per il gruppo è una falta di respeto e un'impressione romanzo che ci sono che si vogliono buscare gente qui in Holanda, finalmente si vogliono conquistare la reputazione di noi, che ci sono stati nella sua scuola, che ci hanno messo la terra, non c'è tutta una decisione, ma per noi. Quindi, io ho detto, non ci sono qui, non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono l'operazione che c'è anche quello che ci sono tutta la stanza di man mano, che ci sono l'operazione di terra con il ministro di justicia, che è assoluto che ho attenti, ho contato e ho firmato, questa reglazione con il polici in Un πiazza, può e può l'armi che ne sono aspettata di un ministro di justicia, così è tutta la stanza. Finalmente, dopo un giorno, in febondazione, ci sonoúde di aspiranti a la polista. Loro siamo contenti che il gruppo, qui stiamo in qualse i colleghi ha un gruppo abbiamo che gruppo qui l'opor va a fortificare la polizia la natura non è involvita ma è ora dal punto di vista del ministro di justicia explica che il governo qui non ha niente di preparazione di tipo di trabona non si può trascendere un governo per un altro governo non importa quale governo ma è in continuità come un gruppo di gente non importa che non c'è nulla cosa che abri non si non si reclamava non si reclamava e si spava altre persone e si spava altre persone arriva a qui il punto di vista è ripetita ora un governo un representante di governo non busca gente qui arriva ma è in continuità ma è in continuità con la sua parola non posso confiar e con il traiecto che è start ma è in continuità che arriva a la sua finale con il èxito sia che il governo non c'è o non c'è sia che il tè o non c'è non c'è il tè o non c'è non c'è l'alto si non si non c'è il tè o non c'è un contratto non c'è tutto quindi si non si tratta di più rispendo e se si si ritatta con il loro per cominciare un livello per più rispendo è per ogni cosa che all'alto sono in contatto che sono in continuità quindi non c'è attraverso l'altra informazione che abbiamo in vitro solucionare il problema. L'importante è che questo solucionare ci sono un gruppo di polizia per fortificare la nostra comunità e per aiutare in l'area di vigilanza. Mentre tanto, non si, lamentablemente, non si trova un po' di casa di Corsau ora non c'è un filtro, ma in casa di Corsau non si sentono i nostri bomeni qui, i nostri esprimenti anche, e se si può chiamare a qualche telefono di casa di Corsau non si sentono i nostri bomeni. Cambio è un tempo. Ma per realizzare il cambio, abbiamo il coraggio per il hospitalario. Se sentono i nostri bomeni, non si sentono i nostri bomeni, ma non si sentono i nostri bomeni. Il amfittorio è un arte, per fare tutto il bomenico, per tutto il bomenico, per il bomenico, senza un bomenico. Non si sentono le bomenico, Sino un buon venire del corso, un brazo, un smile, un'attenzione speciale. Non ci sono i nostri ragazzi, non ci sono i nostri ragazzi, non ci sono i nostri ragazzi. La nostra spera e visione qui, la nostra coltivazione, la nostra realità un giorno, e la nostra desidera resta un po' che va attraverso i nostri ragazzi. Noi, per il momento, stiamo andando un break, abbiamo tempo per quello che ci succede qui ci succede, e noi lo chiediamo a observare e ci sono molto felice. E qui, lo chiediamo al Bussin, consigliamo prima di buon, per il tempo che deve essere informato, ma bisogna informare quando ci sono tutti inogini. Novo tempo, non ci sono molto felice, però per il mio momento basta fare notte che il ambiente di casa di Arruba che è rilevante qui nella casa di corso, e ora basta avere delle ozze e delle i centri di sondri di soli, di spettare di spettare delle molte di casa di corso. E questo è stato un buon lavoro.